Sabato 20 aprile al Grand Hotel di Rimini si rinnova l'appuntamento con una bella serata, iniziativa di beneficenza per Rimini Autismo, idea voluta e nata da due amiche, Nicoletta Cei e Tonia Catuogno. Di nuovo al Grand Hotel, la bella serata, la cittadinanza è molto vicina a Rimini Autismo, istituzioni, imprese, amici vari, ecco, per noi questo è l'importante, tutti insieme con un obiettivo comune. Tutti i soldi raccolti infatti serviranno a finanziare progetti finalizzati a rendere più semplice la vita delle persone affette da autismo e delle loro famiglie. Nella prima edizione della cena sono stati raccolti 6.000 euro, soldi spesi fra programmi, nuove e vecchie iniziative. Pensiamo ai nostri dieci ragazzi che dal 30 aprile al 4 maggio saranno su una nave militare della nostra marina a partecipare a un progetto meraviglioso in cui li vedranno protagonisti e membri effettivi di un equipaggio della nostra marina militare. Quest'estate ci sarà la grande partenza di Autism Friendly Beach, tutti insieme offriremo servizi specifici per le famiglie delle persone con autismo. Ecco, questi sono i due progetti che in questo momento stiamo portando avanti con grande passione perché nuovi, ma poi partirà ovviamente Villa del Bianco, Villa del Bianco col suo centro estivo, Villa del Bianco quest'anno è stata aperta a Natale, è stata aperta a Pasqua, è stata aperta per alcuni weekend, e a quest'estate partirà ovviamente il centro estivo ormai tradizionale, tre anni che facciamo un centro estivo di altissima qualità. Tanti sorrisi formano l'arcobaleno, nuovo simbolo di Rimini Autismo, che insieme al nuovo slogan Fai un salto qui da me, segnano l'inizio di una nuova mission dell'associazione attiva nel territorio dal 2004. Un'immagine che vuol dire saltare, superare l'ostacolo, la differenza, entrare nel mondo dell'autismo, andare verso chi convive con la malattia e non solo il contrario. Nella serata benefica del 20 aprile verrà presentato anche un cortometraggio che racconta la vita dell'associazione nel territorio.